stravolgimento per l'immagine di romina power che sembra aver cambiato il suo volto a conquistare il web in queste ore una foto che arriva dal passato e che nessuno aveva mai visto romina power durante i giorni a cellino san marco sta cercando di curare nel migliore dei modi il suo rapporto con i social e quindi con i fan che spesso le scrivono in direct non a caso a stupire tutti ancora una volta troviamo romina power che cambia quasi completamente volto e su instagram arriva la foto dal passato che nessuno aveva mai visto romina power stupisce tutti nessuno l'aveva mai vista così negli anni di carriera abbiamo imparato a conoscere romina power come la figlia di due noti divi di hollywood ma anche per la sua bellezza quasi senza tempo basta guardare adesso la donna per rendersi conto che è la stessa persona che abbiamo conosciuto quando si è affacciata al mondo dello spettacolo italiano all'età di 16 anni capelli lunghi e stile da figlia dei fiori tratti caratteristici della sua immagine che possiamo ritrovare di volta in volta anche tempo dopo perché questa romina power è il modo in cui tutti l'abbiamo sempre vista in questi giorni una foto pubblicata dalla power mostra un qualcosa di si ripresa da una foto che non avevamo mai visto immagine dal passato per l'ex di albano carrizi romina power sta cogliendo l'occasione per dedicare maggior tempo ai social e quindi il suo rapporto con i fan non a caso una donna della russia è riuscita a conquistare l'ex di albano carrizi con un'immagine presa dal passato e che è diventata poi un'opera d'arte la donna infatti ha realizzato un disegno con una foto scattata romina power quando era era una ragazza e che nessuno aveva ancora avuto l'opportunità di osservare ciò che balza l'attenzione dei fan sono proprio i tratti distintivi della bellezza di romina la quale davvero senza tempo e nonostante gli anni passati romina power è bella come allora come quando gli occhi albano si sono poggiati su di lei la prima volta negli anni 702 ma ma Grazie a tutti. Grazie a tutti.